O.F.N.B.A.C.K. Concerti, è lei prossima data da non perdere Sunbreak Malta Club MTV, lo Spring Break più folle d'Europa, un festival di quattro giorni e tre notti di festa. 28 aprile al 1 maggio 2018, annuncia il suo primo ospite internazionale, sul palco e il 28 aprile ci saranno gli Offenbach, superstar capaci di coinvolgere ogni tipo di pubblico. Il duo di DJ di pause e dance pop francese Offenbach composto da Dorian Lowe e Cesar de Rommel ha raggiunto traguardi importantissimi nel 2017. Lo scorso anno infatti la loro, Bemine, è stata la canzone più suonata dalle radio italiane, ovvero ha conquistato la vetta della classifica Top 100 of the Day Air 2017 con, dati Radio Monitor. Come se non bastasse la loro, Caci, prodotta con Nick Waterhouse, è da mesi la colonna sonora del celeberrimo spot di una compagnia telefonica ed è da tempo uno dei brani più ballati nelle disco italiane. Cesar Loran e Rommel e Dorian Laudwig si sono conosciuti a scuola, quasi dieci anni fa. Dopo alcune esperienze, hanno interrotto gli studi per dedicarsi al 100% alla musica. Non l'abbiamo fatto perché cercavamo la fama, volevamo solo esprimerci attraverso la nostra musica, raccontano oggi. Nel 2014 si sono innamorati della Deep House. Tra i loro primi successi ci sono i remix di Old Back The River, di James Bay e quello per Phil DeVive, di Bob Sinclair. La loro carriera è continuata con i grandi risultati conseguiti con What You Want e You Don't Know Me. Gli Offenbach vi aspettano al Sunbreak Malta Club MTV dopo il successo del 2017, dal 28 aprile al 1 maggio 2018 torna Sunbreak Malta Club MTV. E, lo Spring Break più pazzo d'Europa, ovvero una vacanza di primavera già attesa e sognata da migliaia di ragazze e ragazzi di tutta Europa, soprattutto italiani, francesi e belga. Chi durante l'inverno è alle prese con appelli, esami e libri può infatti già sognare un weekend infinito, tutto da vivere con gli amici e col sorriso sulle labbra. Sunbreak Malta Club MTV sono quattro giorni e tre notti, da passare su un'isola situata nel cuore del Mediterraneo, a sud della Sicilia, ovvero un luogo perfetto per stare in spiaggia in costume anche a fine aprile. Scegliere il colore perfetto per le infradite e ricordarsi della crema solare saranno gli unici problemi per chi ha studiato per un lungo, lunghissimo inverno. Sunbreak Malta Club MTV propone voli da Milano, Roma e Palermo e diversi tipi di soluzioni. Non manca un pacchetto all inclusive per lasciare a casa tutti i pensieri. Sunbreak Malta Club MTV 2018 è una vacanza perfetta per ricaricare le batterie. Su un'isola conosciuta per la sua nightlife, la sua cultura, e una natura sempre protagonista. Chi partecipa all'evento si gode eventi serali con i migliori DJ internazionali, il line-up completo sarà comunicato nelle prossime settimane, è già stata annunciata la presenza. Dei francesi Offenbach, vere star in ambito dance e di pause, beach party al tramonto, bot party scatenati, un beach club riservato a tutti i sunbreaker. Tra le location coinvolte l'Uno Village, Caffè del Mare e Jampoula Village, mentre i sunbreaker possono scegliere tra il beach garden hotel ed il ST. George's Park, chi indossa il braccialetto Sunbreak ha poi diritto a sconti ed agevolazioni di ogni tipo in tutta l'isola, bar, ristoranti, noleggi, escursioni extra. .